Alessandro Malomo, innanzitutto il tuo biglietto da visita. Sono contento di essere qui e naturalmente darò tutto e sono contento di aver firmato il contratto. Appena il direttore mi ha chiamato subito, non ho desistito un attimo. Ti presenti? Hai una carriera importante alle spalle. Tanti anni di Serie C e spero di portare qui la mia esperienza. Negli ultimi anni ho fatto bene e spero di ripeterlo qui. Con la Triestina siamo arrivati a un passo dalla Serie B e spero di conquistarla finalmente qui. Il futuro l'hai incontrato d'avversario, ora ci sei protagonista. Sì, è sempre stata una squadra ostica da incontrare, sia in casa che fuori casa. E' molto fisica e spero che questa cosa continuerà. Naturalmente cercheremo di dare fastidio a tutti e spero che andrà bene. Anche quest'anno il girone è, per così dire, grandi piazze e grandi firme. Sì, con la retrocessione del Perugia e altre squadre attrezzate, a Triestina, al Padova. Sicuramente forse è il girone più difficile, ma sicuramente ci faremo trovare pronti. Come sono stati questi mesi di inattività? E' stata dura, non sono mai stato fermo per tutto questo tempo. Quindi è stata sicuramente lunga, ma mi sono allenato e sono carico per ricominciare.